Muta Guarda se va al gioco 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 Grazie a tutti. 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 Me lo dimentico sempre il gioco. Me lo dimentico sempre l'audio. Me lo dimentico sempre il gioco. Me lo dimentico sempre. Ok ci sono. Basso giochi dopo o mi prendi per il culo? No Zofia no. Ok, bello. Oh, scarico. Vabbè. Allora, aspettate che cerco un attimo il telefono perché mi hanciolato il telefono. Ah. Io sono napoletano. Ah. Io non sono stati. Io devo trovare un caricabatterie. Hai un risultato il telefono? Dicevamo allora, noi non sappiamo giocare, è diverso. No. Ah, ottimo. Ma se volete darmi una mano a salire, in teoria un 15 partite, io dovrei essere al 50 se le vinciamo. Sì, sì, posso sai. Allora, andiamo in clash? Sì. No, guarda, ti dico, noi facciamo questa però andiamo in classificata. Cioè, te non hai idea già. Ora dico, qua. Stai laggando. Guarda, allora l'ho detto chiaramente, noi facciamo del nostro meglio, cerchiamo di giocare di tattica, solamente che non dico che gli altri sono scarsi, semplicemente aspettiamo, gli altri non si impegnano. Ok. Non si impegnano, ma la maggior parte delle volte litigano. Tipo, a me l'altra volta, le è uscite la disco, così, a casa. Dai, allora mi sbrigo a vincere tutte le partite per farle classificate, anche perché è il mio obiettivo. Sì. Ho quattro pantone oggi, sono vecchissimo. Io non so se lui ha una di quelle oggi, ma... Sì, 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 sono nuovo dal PC, sono tre giorni che gioco. Ok, siamo tutti sulla stessa parca. Tutti quelli che vengono qua sono sulla stessa parca, è fantastico. Sì. Siamo anche noi da PS4. Oh, ma Dani, non so se... Ok, Platino su PS4, qualcosa del genere. Sì, ero quasi diamante su PlayStation 4. Eh, noi su PlayStation 4... Sì, qua è più... Sì, qua è più... Sì, arriva Caveira, spacca di poti, da un cazzotto in faccia. Il Wi-Fi, qua c'è di tutto. Ok, ho rotto il Twitch. Però è divertente. È più divertente. È divertente perché siamo in griffo. Cioè, possiamo da solo di una palla troce, questo gioco. Ma io metto il gioco spinato da bridge. Oh, io li impozzo in bagno. Oh, no. Mmm. Ma ragazzi, oggi sono fortissimo. Ma avete chiuso fuori. Merda. Vabbè, dai. In questo momento sono depresso. Dai, ho perso 3 gradi in un giorno. Hai fatto me dire così bene? Ok. Ok, hanno preso una trappola. L'ho notato. Arrivano da lì. Grazie per la sub. Ah, ciao Roby. Ma sei live su Twitch? Sì. Cosa? Sì, per quello sto cercando di puntare al 50. Almeno la gente viene a vedere uno che effettivamente gioca. Non come me. Ma. C'è tempo per migliorare. C'è tempo per migliorare. Ragazzi, non ho fatto nemmeno in toccazzo in sto partito. Cioè, in sto round. È Leo che sta facendo tutto. Potentissimo. Tu sei Bloss Blip? Yes. Comunque dillo prima, così adottiamo un linguaggio appropriato. Ma si, si capisce che siete persone alla buona maniera. No, 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 intanto perché su Twitch ormai vieni bannato, credo. Anche se... Se dici che ho fame. Pipino. Cimpanato. Stato. Ma raga, dove cazzo sta? Vedi? Ah, si sta nascondendo. Vabbè, 30 secondi. Lo sento, Dar. E intanto ce ne sono due. Uno ce n'è, anche due. Ah, entrate. Ok, qua c'è sceso. Che cazzo. Adesso per te tu. Siamo a 15 secondi. Vabbè, GG. Ciao, Roby, come stai? Hai preso una trappola? Niente, nemmeno un assist. Ah, no, un assist. Ciao, Roby, ciao, Roby, ciao. Come stai, come stai? Sì, è bellissimo. Ma solo quando uso, c'è, Jäger. Ciao. Ma Jäger ha un bellissimo fucile, a parer mio. Il chiamato è un buon operatore. Con chi mi son trovato bene oggi, che non mi ricordo? Ah, con Ela. Con Ela. Eh, lo so che vi manco, Roby. Minchia, parla con qualcuno, io vorrei tornare a lavorare. Sono sei mesi che non lavoro, non so più che cazzo fare. Vabbè, adesso mi sto dando allo streaming. Lavoro gratis. Lavoro gratis. Beh, oddio, è gratis. Mi paga l'agenzia, quindi bene o male. Anche senza fare un cazzo, i soldi li vedo. Però stare a casa, uno si rompe anche un po' i coglioni. Sì, no, quello lo so, ma io la settimana scorsa ho tipo stremmato 12 ore di fila. Ma stai scecchionando? Sì, adesso sì. Ne stavamo parlando prima, miglio. Non ho minimamente cagato di scosso. Eh, ma sai che dovrei farlo, Roby? Non sarebbe una cattiva idea. Qualcuno faccia un bocchino lì? Certo. Wi-Fi, vi faccio il video. Ma qua sparano veramente? Io pensavo scherzassero. Ma? Abbiamo Harry Potter con noi. Eh, no, ragazzi, B è tipo... Una mierda. Ne arriva uno da lì che sta guardando col drone. Sicuramente ne abbiamo uno là dietro. Ecco, appunto. Ok, l'hai fatto tu? Minchia, perfetto. Minchia, che spavento. Ma mi ero dimenticato le corazze. Ti ho coperto? Mi hai salvato, è diverso. Eh, scappa, scappa. Ma posso ripagarti il favore? Stai ammazzando qualcuno. Uccidilo, teamkiller. No, raga, non abbiamo fatto il muro qua, Cristo santo. Dov'è il defuser? Ah, c'è termite qua. Oh. Oh. Eh, adesso ti ho pagato. Oh. Eh, stavano giocando. Eh? Stavano giocando. Ma chi stava giocando? Eh, te ne ho detto io Giocando un parolone però Si stavano uccidendo Tu scrivi io, scrivi Libero, senza museruola Ah, che bello eh Eh, qualcuno sta prendo cosa? Arriva da qua E io che cazzo ne so stas? No, non è una domanda Vedete che è la seconda volta che fermai e ti rimane da solo coraggio E' l'unico che non è morto A posto Cosa è a posto? Che? Che hai detto? Eh, Roby è il mio collega di lavoro Ex collega di lavoro ormai Io continuerei con Ela Perché con Ela ormai ho un rapporto sentimentale abbastanza stretto C'è il mio carica batteria per fuori Ah, il mio ci sta carriando a tutti quanti Mi piace questa cosa Ah, io spero ci sto facendo un video qualcosa Perché non ti capiterà mai più Sì sì, no, sto riprendendo tutto, non ti preoccupare Ma hai visto che cosa ho letto? Cosa hai detto? Cosa hai detto? Cosa hai detto? Cosa ti dici? Perché? Eh, ragazzi qualcuno ha una bombetta per qua No, raga Qua non c'è manco un muro Buona notte, Tito Buona notte, Tito Buona notte Ecco Ela, sapevo io Devo prendermi le bombette di merda Cambio caricato Non so quanto ti conviene Non so quanto ti conviene C'è uno lì C'è uno lì Uno è qua La terra Sì Eh, una a destra e una a sinistra Arriva l'altro, arriva l'altro a destra Eh, oddio Eh, oddio Eh, t'hanno incapetitit Ma che poi c'è questo cute tomato che fa schifo proprio Tu smurla mao No Ragazzi Quanto siamo? 2 a 1 per noi, sì Sai cosa? Quasi sboccio il mio inglese da tazza media Vabbè ragazzi se giochiamo un attimo in team prendo montagne Sennò vado di altro Vai 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 Va bene Leo fa il brincher allora Mamma mia quanto l'ho detto Cosa? Eh, devo prendermi ice Leo fa il brincher, ormai Leo è il king dei brin Sì Breccia, proteggiamo Ma per streammare usi streamlab Non ho capito niente Dani Per streammare? Usi streamlabs? Sì esatto OBS oppure proprio streamlabs? No streamlabs puro OBS l'abbiamo accantonato Eh ma hai visto quanto fa schifo? In realtà è uguale però streamlabs è più carino Sì è un po' più 2020 mettiamola così Il tempo è bello, esatto Alessara K Pocca e Frost Ok K Canelli Adora una volta abbiamo beccato qualcuno Mi ricordo che i magli stavano proprio Cioè gli stavano proprio facendo il culo E la certa fa Raga io comunque sto streamlando Adesso stacchiamo che andiamo a giocare let Ma gli stavano Eh un attimo qua Non c'è niente Non c'è niente Non c'è niente Non c'è niente Mi voleva mutare No no Ah già forse sei quello di Assi No Torino Ah ma dentro di Alba Beh ma noi siamo falsi piemontesi Noi siamo siciliani Siamo francesi Arrivo Alla carica La Caritas Ma sicuramente ce n'ho una a destra Ragazzi se vi tappo sto buco potete piazzare tranquillamente Venite dai Vai Eh c'è niente Ti sto divertendo troppo Cosa devo fare? Spalagli Ce n'è uno qua non posso c'ho lo scudo aperto Oh Tua ma Tua mamma Ma dove? Ehm Mi metti la pistola di la Allora In posto No 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 Provo a plantare va Qua dietro il tavolino Ve lo sto tenendo io Fa il giro Fa il giro Oh no Vai planta 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 Buona Buona Uno è qua Uno è qua Uno è qua Sto facendo il giro Sto facendo il giro Tu stai Tu stai lì pure Posto Posto Ma guarda la crap Che nab A posto Lo mao Lo mao Ma sei ultimo Ma stai giocando col miglio Quello vero Il verde Si Quello vero Si quello vero Verde ragazzi verde Bravo hai fatto un ottimo lavoro da montagna Ma siete già in cinque? No siamo in tre Ma dopo loro vanno in classificata Io invito Basso e Cesare Mas Di nuovo montagne eh cosa volete fare? Ho scritto ha finito sto round e invito Basso Non che l'hai detto Siamo una squadra fortissimi Ah è vero che dicevi Siamo una squadra fortissimi Che cozzalone Dicevi miglio? La gente mi fa No si dice fortissimo Dicevi miglio? Ok Adesso chiamare Leo miglio Si chiama Leo Leo oppure coglione Vabbè coglione No sto scherzando Massimo rispetto per i compagni di squadra Beh Se la gente mi dice No si dice una squadra fortissima E ho detto Minchia ma veramente Me lo stai dicendo Purtroppo si ripasso Un po' picca Al primo round della prima partita Si me l'hai detto già sei volte Si me l'hai detto già sei volte E questo è fantastico Ma questo è stupido Si quello è un po' mi dissocio Vabbè ragazzi stiamo giocando con uno che il drone non lo vede nemmeno quindi boh Si via di montagna Via di montagna Non sono mai uscito Non sono mai uscito Basso Ragazzi mi fate un buco qua Per fuori così entro No in realtà siamo uscito con il 90 Io che cazzo ne so scusa Dai zio apri 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 C'hai creato uno scudata e si è aperto un bocchino Ma l'ebook mi sta perculando? Si basso esatto Oh oh uno è lì Uno è lì Uno è lì sotto Aiuto 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 Mi pusha mi pusha mi pusha mi pusha mi pusha Eh sono Eh raga erano in due Arrivo arrivo Eh arrivo sono morto Ragazzi Mannaggia a voi mannaggia Io mi fidavo di voi Dio dove è l'altro Eh vabbè Io ce l'ho messa tutta Ma poi cinquante più fosse Ma questa è la mappa dove hai fatto la famosa kill Con il coltello Si è questa Dani sono C'è Melusi Io Ciao Dani Resta solo un operatore d'attacco La mappa La mappa E' arrivato il fratello stupido Chi saresti tu? La mappa E' ritardato Harry Harry Where is Harry Potter? È Lely Kelly Le tue scarpe Le tue scarpe Non mi ha avuto il altro video Penso Dio Non so Come si scrive? Non ci scrive No così stai scrivendo In scuola Guarda il campione Nel 2020 Vedi che anche lui ha scritto Oh yeah Ma solo io Penso che l'arma di frost Sia la più sgrava di tutte A me fa schifo l'arma di frost Boh Com'è il passo Nicola conosce? No Io volevo un attimo fumare Sediamo Sediamo la vittoria di Harry Potter Siamo proprio opposto Dai Contro chi stiamo giocando Reattività 8 Ma che prende la trappola eh? Ma? Ma raga veramente abbiamo No vabbè Se arrivi diamante Ti faccio invitare i torni ai seri Se arrivi diamante Ti faccio invitare i torni ai seri Se arrivo diamante Faccio io i torni ai seri Si Non è che basta Che se diamante ti invita Quanti diamanti ci sono Guarda quanto sono toxic Ragazzi ultimo Non mi sono mai visto ultimo in sto gioco Mi sono in isola per sempre idola Oh il Trafalgar Eh anche a me Oh il Trafalgar Oh il plus Fai liber bene eh Si sono già al 36 Vi visto A dopo Dai ciao ciao Bassonico entra Cesare entra Forse non c'è il Cesare Cesare mi ha invitato prima Cesare fa il bravo Allora Non lo so Bassonico Passa solo Zacco ultimamente Ieri ha giocato Fede con Zacco In vita In vita In vita In vi In vi In vita Ragazzi Nel mentre Del cammin di nostra vita Io vado a fumare Basso parla un chiacchiera un attimo con My brothers Chi è entrato? Chi è entrato? Il Cesarino Ci scommetto 10-10 Basso Dai vado a fumare Vado a fumare Ciao Basso Minchia Quasi diamante Si Bassonico Basso Basso Perché non lo sento? Non è proprio io Basso 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 Si è una buona E gli altri non entrano Allora In vita giocatori Dai Cesarone Basso Ci sei? Perché Perché non ti sento? Adesso startiamo Per arrivo Oh ma il che vada Lo faccio io il primo round Così insegniamo fratello Come si gioca Ok No no niente di discord Parla sul gioco Basso Che rank sei? Come faccio a vedere quanto sei scarso? Cos'è argento 3 quello? Sei proprio scarso Mamma mia Non puoi venire a giocare Cesare? Cioè non puoi giocare? Cos'è sta cosa che danno col prime? Un personaggio? Toucher Che include 4 oggetti unici In esclusivo con prime E' bello raga Ne vale la pena No parla sul gioco Non apro discord Ah ok Cesare Allora iniziamo a startarla io e lui Ma come fa a giocare così? Ma è pazzo Non classificata Non classificata Ok Eeeh Perché non ti sento? Opzioni Audio Ma in realtà non compare che stai parlando Secondo me il push to talk Ok Allora Ok Qua non l'ho ancora chiuso GG per fede Non stai parlando basso C'è un bidone Argento 3 Sono un pro player diceva Ah ma lei ha visto push to talk? Push to talk Ok La partita un minuto Per cercare il matchmaking Ok Se riesco a fare un round Uso hash Palese Ormai è scontato Non venga su discord Così ho già la cpu al 100% Io direi di no Fra poco cambiamo la scheda madre Possiamo parlare su discord Per ora no Non voglio rovinare il pc prima del tempo Bannate voi Oh fracio Fracio è il tuo stesso problema Te lo giuro su dio Oh Però non è la scheda madre Di solito su quelle cacate Di merda di processore Cazzo No il processore è Comunque un i5 I900K Tipo che cacchio F Prima gen Raga Mio fratello è andato a fumare Lui è quello forte Giocava prima da play Io sono un ottimo Cioè sono Stunnato Si si Io sono molto stunnato su sto gioco Non ne capisco niente Però È va bene così Qualcosa riesco a fare La mira dovrebbe averla Almeno quella Vabbè Ma qua tutti facciamo cagare A posto Si si Sono lo scarto più legno dei legni Non è anche esclusive Solo per me Allora Basta guardare il mio KD Che chiamo Montagne No comunque la scheda madre ti diceva il problema perché è un S lock Cioè non la conosco neanche come marca L'unica cosa buona che ha questa scheda madre è che di nuova generazione Buona più o meno Che chiamo qua Clash Vedo solo la fiducia Fede non ha visto niente Perché non mi sento più? Perché Sto parlando perciò Ah ok Comunque voglio dirti La mia ragazza ha il tuo stesso processore Però Gioca a Rainbow E sta su Discord E non lag quindi Ma perché sto anche streammando io C'ho la stream aperta Ah Eh 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 Vabbè allora è normale che non ti funziona No ma lo posso aprire Però già così al 100% cpu Cioè preferisco non sforzarlo più di troppo Cioè lo potrei anche aprire Però preferisco evitare Allora Il mio fratello già è arrivato In possessi della tassetta Aspetta fammi fare un round Ormai sono qua Chi prendo? Chi prendo? Chi prendo? Ash o Fuuz? Ash Ash Si push Ash Gioca Gioci Gioci auto gioco Dov'è? Come è le gioci auto gioco? Y Ah Wow Bappo Basta, mi associo La, vuole andare di la? Vi metterò come se vuoi? No Eh, ce l'ho qua Eh, che mappa eh? Ma quindi siamo tutti italiani? Eh, allora io bastone così Quanto ho capito anche voi due Ne manca un quinto che non vedo Perché voi siete Fiammi e Hawks, vero? Sì, scusa per la pronuncia No no, sei tipo uno dei pochi che lo pronuncia bene Ok Ok, mi ha già fatto fuori La bomba dovrebbe stare nel dolce Bella gaming Fè Vuole la barra dei follower Gaming Boy Io l'abbiamo messa Quanto vuoi per la sbarra? No no, è gratis Sì sì Dai no, Fè non me la sento Vieni tu Eh eh, dimmi dimmi Non me la sento vai Ti sabbo Ti sabbo Ti sabbo Ti sabbo È mio fratello, è quello bravo Ti sabbo se mi sponsorizzi Se mi sponsorizzi il discord Comunque ciao, io sono il fratello Beh si può fare comunque Non è male come idea Dì se sponsorizzerò Ma scusa, sono io il manager Decido io Ciao, ciao bestia Ciao Eh raga, io non ho seguito dove gente Stanno al secondo piano Ha detto di mandare il link Ma non so come si fa in gioco No, scrivi brother Dì come si chiama Aspetta ti scrivo La tripo Dove non andare Andiamo dai Cerca questo su Instagram Ok Appena voglio schiatto vado a vedere Dal secondo piano No Damn La mina di Capca La G riesce a prendermi noo cazzo da dove? Dock sull'AiSight Vede! Beh! Aspect finisce He's camping on corner in the right Ok Ho lasciato spiriti fuori Hai ragione Ma... Il ragazzo che voleva che sponsorizziamo Discord per trovare player di Rainbow C'è un Discord per giocare per avere gente che gioca Rainbow Anche Anka Anka ha detto tutto Diciamo un server community based Meme, stronzate, just talking Qualsiasi gioco Just chatting Esattamente Una community Le rapine su GTA Che fai? Te ne apriti? Che cazzo Di che volendo Noi ce l'abbiamo già Stiamo allargando ora quella di Rainbow Aspè che c'è spiriti fuori libero Era solo quel capire Dì che se vuole da noi Vi trovo un botto di gente Hai scritto i brother? Ha detto che non ti trovo su Twitch Si hai brother con la... col 3 al posto della E Aspetta te lo riscrivo No gaming Non dire queste brutte cose Ci penso io al server siete fottuti Ma basso io sto pensando che oltre quello del team che ho insieme ad Enjoy ce ne farò penso anch'io uno mio Cioè uno nostro Con tutti i Bassiniani e De Gelemboia Eccolo arrivato Chi è Fammi? Tu? Bella Si si è lui Fiammi Ok Ok Andiamo a vincere questa partita Che c'ho tocca? E' una nole Ma non ho capito quanti italiani siamo Penso tu Sì ma a sto punto penso tranne uno Io non ho visto quanti nomi Allora basso Chi siete? Ditemi i vostri nomi Io sono Oxo Ok Bassonico è italiano Bassonico è morto Sto collando E' una nole Mirena Mira dietro al Mirai Noi Un'arma Attivazione codice Spoggeranno Sto tirando Raga qualcuno che cerca le camere Per favore Coprimi che vado Mi sta individuando quindi sa dove sono Perfetto Nice Flamme adesso Comunque arrivo a mio fratello e vi gestite un attimo voi K Diciamo che io sono il manager Quello che mette i soldi Poi tutto il resto se lo gestisce lui Ok Zofia me l'avete ciulato Esatto Montagna l'hanno bannato Ma sai che vado di fuse così quasi Che rompo un po' i coglioni Te l'ho già detto che sei troppo forte Perché sei troppo forte Lo so gaming modestamente Decitamente sono nella norma Gaming l'unico mio problema su playstation 4 Non aver avuto un team buono Perché altrimenti avrei fatto Non dico tanto ma Abbastanza Sempre dove erano prima Non ho fatto il drone Cazzo Ero platino Ho toccato il diamond con un dito E poi Tornato le best player Come dio e Adamo Esatto C'è Una partita in diamond E basta Però non l'hai più visto Io invece ho allicurato il platino 1 50 milioni di volte E poi sono scarso come la merda Perché sono No vabbè ma non vi muovete male Avete solo poca Comunicazione Perché a muovervi Vi muovete molto bene Da quello che sto vedendo per il momento E' un attimo E' finita il round Gaming oggi ho vinto Una solo versus Trio in arena Lesione è morto Mamma mia Minchiaola L'avessi preso mezza volta Quanto scudo Se ce l'hai così poco lo scudo Non si può aprire di più Ragazzi due inside Nei Maverick vieni qua Ho Medito Maverick vieni ditro Maverick vieni dietro Bello Non ciò più nemmeno su noi 9, in B scusa. Sto plantando su A. Da dove? Eh rega ho detto stavo plantando su A. Eh ma hanno detto che era in B l'ultimo. Minchia non l'avevo visto che spavento. Cosa parla gaming? Eh? Cosa parla gaming? Eh che sono troppo forte. Non ho capito per cosa. Sei pronto a trattare? Non ho capito per cosa. Non ho capito. Comunque vabbè adesso c'è il match point in difesa tanto abbiamo tempo. Parla un attimo con lo che sei iscritto. E cos'è? E' per sponsorizzare? Vai. Cosa è che ricevi? Cosa è che dicevi? Ah si che fa. Sponsorizzi il discord di faccio la sub. Eh no ma è quello che dicevo non capivo il discord è proprio c'hai tu già? Ce l'hai? Si già ce l'ho. E poi passami il link allora. Si. E poi fai io nero tutti quelli che giocano contro il Rambo. Tutti quelli che già hai. Va di fare team ma sul Rambo. Ah comunque dopo al massimo vi aggiungo anzi vediamo se riesco a farlo già adesso. Vi ha richiesto amicizia. No gaming. Vabbè hai sentito gaming no? Vi ha richiesto amicizia. a posto. Un via da tutti. Minca fede se avevi... gli avevi detto che se avevi ancora la play io lo sponsorizzavi con 300 persone. Nooo ho tolto un cap gun. Eh beh. Eh? su play ho troppi amici. Da qua. Per sparare al drone ho preso in pieno il cap gun. Si si tranquillo la shot. No te ne avevo un'altra. Ma perchè posso scrivere PC Gamer e non scrivi ex console player? No non ti sento un'altra. RUAD2500. RUAD2500. Io ogni tanto... Sento uno scudo ragazzi sta arrivando verso i voi da... dalla parte opposta del secondo piano. Ecco mi hanno inculato in due. Basta. Eh ma aspettavano a quanto pare. Una è Young. L'altra è Blitz. Cercherò di botterli da qui. Eh va bene. Vanno insieme. Quindi se becchi i Blitz stai attento che c'ha Young dietro. Ma basta parla. Non lo sento. Fateli pushare. Fateli pushare. Sono tre dietro. Cioè sono Blitz e altri due. Nooo. Eh ci siamo mostrati troppo. Che che m'ha chiamato? Il mio cugino. Ma che cazzo ti sbupato? Ma ha sbupato. Ma che cazzo ti sbupato? Ma ha sbupato adesso. No a parte che sono 5 euro di sub. E poi Twitch mi dà la metà. C'è un altro. Almeno c'è c'è un altro. Ma che cazzo ha fatto quell'altro? Quanto ci ha messo per farlo fuori? Va bene. Ci sta. Ci sta. E' bello quando spara con lo scudone. Ma avete perso? Io continuo a non capire. No siamo 3 a 1 per noi. No, solo round. Si. Continuo a non capire se è forte l'arma di Ela. Tanto faccio i full team ogni tanto no. Dove andiamo? Ho pensato comunque per gli anime come fare. Gaming tu li guardi gli anime? Io guardo le anime. Ascolta, mi ho pensato come fare per gli anime. In un senso... Compri il copyright? Lo dici in live, poi li metti anche su Instagram e tutto il resto. Che organizziamo su Discord la roba per fare la live. Cioè perché su Discord almeno le guardiamo insieme a loro, capito? Ma c'è. Sendo che non si può fare su Twitch, ci organizziamo e lo guardiamo. Si, che cazzo metti su Twitch? Su Twitch. No. A fine devi portare gente su Twitch, non devi portare su Twitch. Ho capito, ma è per rafforzare la community. Non si può guardare gli anime in live. Non ti sento, aspetta. No, non si può, non si può. Ti stanno bannando in copyright. Ti bannano, ha detto. Eh infatti, non so. Vedete le cuffie, ascolta quello che dicono da là. Ma infatti quello sto dicendo, visto che non si può fare in live, le mettiamo su Discord e le guardiamo insieme ai nostri spettatori su Discord. Sì, sì, su Discord tranquillamente fai lo streaming dell'applicazione in particolare. Ti senti anche l'audio. Infatti abbiamo una sala cinema dentro. Infatti nel server di Fiamme abbiamo anche la sala cinema. Nel server di Flamme hanno anche la sala cinema. Chi è, è suo Flamme? Eh? È lui Flamme. Sì. Ma ha fatto l'upgrade a Discord. Ho sempre voluto farlo, ma non l'ho mai fatto. Ha sempre voluto farlo, ma non l'ho mai fatto. Frisciano da sotto, Slip. Eh, è buono l'upgrade su Discord. Eh, stanno dronando, Ox, occhio. Buona, basso. Stanno arrivando da sotto, eh. Stiamo attenti. I muri... Non l'abbiamo fatto mancuno di noi. Stanno arrivando da sotto. Bravo, basso. A me dice che è una sub... Ma sai perché lo fai da telefono? Info? Eh, io non so dove siano. Ok, qualcuno individuato. Da me, da me. Da dove? Non l'ho visto manco. Nomad da tamburo. Dal Gong, come cazzo si chiama lì? Nooo. Dai, dietro blitz c'è Nomad. Dai, dietro blitz c'è Nomad. Cazzo, io ho sparato in testa, porca di quella troia. Era un headshot, però va bene. Questa è quella che significa il lag, vedi? Questa è la quarta. 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 Prova a mock un vera il site, raga. Andate in camera da letto e buy. Su Streamlabs. Li ho fatti dal sito e poi li ho impostati sul... Noi. Perchiamo di essere super bulletinari. Sulla applicazione di... ... sulla applicazione di... ... sul software. ... una frost, un capcan e uno gig. Preso. Perchè? What the fuck? Aspetta. What the fuck? 3, 4, 5, 6. E' finito il succo. E' finito l'energia. Io oggi ho dormito due ore. Io tre. Ah, si. Non è bene, ho dormito come... Per preparare lì. Eh, ma se lo metto qua sotto mi sa che scoppia... Raga, buco qua. Andiamo a 10 volti. Aspetta. Ora... Comunque... Eh... ... dopo... ... ci mettiamo... ... e... ... lo guardiamo insieme a partire. Fuori dalla linea di giro della PS. Porta contrappola. Sella larga. La PS attiva. Contrattore. Stanno entrando, occhio. Stanno entrando, occhio. Ti stai... ... ... ... ... ... ... ... ... Bacca dietro sta ristrutturando Quella che professionalità C'è scritto la tua tipa Ma da dove, raga? Sono chiuso, raga Ci sta una nomad che mi viene Concentrato Bravi Bravi, raga Bella, raga, gg Eh, raga, vi aggiunto Se volete accettare l'amicizia Continuiamo, invitatemi voi Sì, aspetta che te l'aggiungo Aspetto l'invito Poi ripartiamo Basso Primo, signori Mamma mia Però quello che non capisco fa Grazie, blow Niente, leva leva, metti Hai fatto molto? Metti Eh, ho fatto tantissimo 9-1-2 Un dissing Bella, raptor Oh, raga, se arriviamo Penso a 10-15 spettatori Siamo in cima a Rainbow Six E diventiamo famosi Perché dopo 15 spettatori Arriviamo a 200 in un attimo Vai, gaming Tu che sei il nostro sponsor Invitaci Eh, invita le persone Ma Ma è un attimo gaming adesso Appena sale di qualche numero Se sale Aspetta un attimo Devo accettare Ci mette in cima La lista di Rainbow Six Ed entrano tutti Vede, penso che una volta abbiamo iniziato a spammare un abuso Siamo arrivati tipo a 30-40 Ho tolto quando gli arbaffo me Ho stato che lì, vabbè Nei spettatori non li vedrò mai, però Uh, in quanti mi stanno invitando? Penso sia la prima o l'ultima volta che il canale ha toccato 1500 spettatori Attenzione Ma no, basso Aspetta, basso Ti voglio bene Federico, dai Eh, ma non ho gli altri Non so come invitarli Non li compaiono Bella Daddy Ah, è Giulia Ciao Giulia Io mi sono un attimo perso È un attimo gaming Ma perché non compaiono gli altri? Non riesci a parlare Perché il push to talk Babbo Babbo secondo te è bannabile? No No, neanche ce l'ho Prova a metterlo un attimo Usalo, vedi se così si sente Oh, è troppo Ti hanno scritto in 52 cani In 52 cani? E ti ha scritto... No, vabbè niente È Bassonico che sponsorizzava Invita a giocare Invita a giocare Sono quei due di prima Sono quei due di prima Mamma mia quanto è lento L'affare di Ubisoft Minchia Chiamate gente No, i tuoi devi chiamare gente Non ho capito niente di quello Penso che ce l'aveva con la chat Ah Ma sono i due di prima quelli Sì Ok Flami è entrato Ora invito Ora invito Ma scusa Fede Ma Blow è un tuo amico o è uno di loro due? Chi è Blow? Non lo so E ti ha detto Ti voglio bene Federico Dai Cioè quindi ti conosce Mamma mia Ma sai che forse Blow è un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Ancora 5 Un attimo Prende si tocca nei 15 Si arriva a 200 No Daddy Adesso partiamo Adesso partiamo Ma dovrei chiederlo Ad Enjoy Enjoy Ne avrà 15 Però sta Appena iniziato a streamare Ma Ah li abbiamo comprati tutti Adesso devo mettermi solo Il primo che sblocchiamo chi è? No Subito Aspetta che rimuotiamo Raga non dite Bassonico che Daddy è una femmina Che poi Bassonico Femmine? Dove? Femmine? Oddio Io sto già ostando Grande Angel Chi è la femmina? Che la femmina subito Ehi taccimano Guarda come ha scritto dove è? Cioè mamma mio Dio Dove è? Italiano perso? Chi è? Bassonico Gli ero andato per lei Vuoi vedere? Che cosa sapevo? Vai Bassonico Mi chiede parti va Dagli il vip Fai la vip Vai Ma Aux sei tu Blow No vero? Guarda ha preso quello che ho fatto solo perchè la conosco No perchè sei iscritto uno adesso pensavo fossi tu Giulia è il vip adesso No io ancora devo intendere che tu fossi su Twitch Pensa come siamo me Bella Bella Ma se andassimo sul vostro discord così siamo tutti più felici Noi vi stiamo provenendo infatti dove volete il link ve lo mandiamo Ma mettetelo sulla live Non è Già mi ha messo il live Non riottenete sulla live Ma non è che c'è il bot Ah perchè glielo blocca Non è che c'è il bot che toglie le spam Glielo blocca Ah Ma come facciamo? Eh aspetta Se no te lo mando su Instagram Non lo so Eh mandalo Mandalo su Instagram che tanto è tutto collegato Dovresti trovare i border e c'è tutto linkato Gaming è quasi a 15 è un attimo È un attimo Eh cos'è che volevo dire? Mi sono dimenticato Eh devo dire una cosa e mi sono dimenticato Mamma mia Bene ti ho followato Ti ha followato Grazie Guarda la richiesta Accetta E metti il link Ah me lo sto mandando su Instagram Si Eh mandamelo anche a me così entriamo sul loro discord Ma vuole stare qua sotto insieme a noi al calduccio in mezzo ai fili roventi Ora Basso puoi partire nel frattempo eh Non mi ha mandato niente No ti ha fatto la richiesta adesso ti invia il link Bassonico Bravo Bella Grazie Hanks Ma li conosco dal vivo Sono privilegiata Non commentiamo Ok raga ve l'ho mandato su Instagram Ok te l'ha mandato su Instagram Ma con che prepotenza Io invece vi sto seguendo su YouTube Perfetto Te l'ha inviato su Instagram ha detto Ma su quale potete? L'ha richiesta C'è una richiesta Ma rincoglionito Ma sei cieco Oh porca puttana Quella Ah Mi potetele ragazzi con la tecnologia pari a zero Che copia Vai sulla chat di discord da la Da dove? Si per dare i vip alle ragazze ne hai spesi un casino Eh da qua come entro? La? Da discord E da Andate quel cesso di ore con E boh è sparita Ok ragazzi Eh aspetta Vai Aspetta Entraci prima Un attimo raga Ci sono Lavori tecnici in corso Ok ragazzi Sono entrato su discord Ditemi dove In quale stanza volete andare Allora vedi Allora vedi Siamo Allora vedi Siamo Allora vedi Buonasera Oh è entrato bassonico signore Ok ok ho fatto Ho fatto ho fatto ho fatto Perfetto Allora E Clash Anche perché se dovessimo prendere un montagna e clash è l'unico che riesce a contrastarlo Montagna è bannata Si però si è No Montagna è bannata Ah non l'ho visto scusate perché stavo Mamma chiocciola e papà chiocciola sono Tanto mio fratello prende il possesso del computer come se fosse satana Vai più in là Shot più in là Mi son mosso di un centimetro E quel centimetro Ma che per esempio io questo non so neanche chi cazzo sia Melusi Esatto Melusi Melusi praticamente mette un gadget a terra Quando l'avversario il nemico si avvicina lo rallenta Proprio Melusi si tu E per distruggerlo puoi solo tirare i pugni quindi si deve per forza avvicinare il gadget Ok Chi breccia? Maaah Ok Toucher l'hanno tolto Io non ho Se no posso prendere Twitch Eh la prendo io non ti preoccupare Così almeno ti tolgo se dovesse esserci qualcosa Twitch Eh Lion prende il Nesk o Lion? Come non detto Ah l'ha preso lo stesso Ah ok Non morire col Diffuser La speranza è quella poi Cioè vedi io più vado in la col braccio più sono comodo Ci dovrei avere una scrivania di 8 metri Infatti quel core l'abbiamo fatta di 7 Ah ecco Avviatore Avviatore Ma io sono l'unico pirla che non conosce i posti delle mappe No guarda manco io ho soltanto due stanze in truca Eh io conservo un attimo il Twitch Kai, Zemira, Aruni L'ultimo Aruni L'ultimo Aruni Malissimo Ma fa danno alla gente Eh ok vado a distruggere i Abbiamo Senti che bella roma di merda Aspetta aspetta Vediamo se riesco a passare Ok io ho distrutto il gadget di calcio Oh 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 Tutti da sono Sono tutti dentro Sono tutti dentro Cioè 4 sono dentro di fisso Guarda che c'è Ehm Questa è in tanti Oh f***** Oh cap cam Eh eh sì Anche vommai e kd5 Sai da tanto cavo Tanto cavo Adesso salva uno Il difed C'è un altro in cavo Sempre mi era in cavo Fai vedere chi cazzo sei, fai vedere che si sangue del mio sangue Basta Pro player Non sei mio fratello Ce n'era uno a cavo, non so come non è morto Qua serviva Scusa Spirit Qua serviva Ibana, serviva Ibana Andavamo a fare fuori il mira Ecco la portalo fuori perchè mi sa che devono andare Spirit Non lo senti? Tu non scorreggi mai? Si ma prima di andare a cagare Si Madonna Spirit Chi lo dice che non sei stato tuo e non ti stai coprendo? Non so stato io, non le faccio così forti Ecco Si si Con tutto il succo che ho bevuto In questo momento vorrei essere una vacca Dio fa Per non sentire la puzza Ragazzi il mio cane quando scorreggio il mio cane Si potrebbe morire E' proprio qua sotto di noi Quindi è scorreggiato Tutta l'aria calda sale Si Mamma mia che bella roma Ancano 12 spect Troppi E vabbè Vabbè dai che sarà male un po' di vacano magari No ma la sua non è le Il suo è proprio acido Eh Sono giù Ok Ah Ciccina A me sembra che stanno sopra Anche Io Io sono e mi sento da qui Troppi Sto svenendo Sto svenendo Sto svenendo Eh Fuora a fare spawn kill o surprise Bandit Oh oh Surprise me la facca L'ultima Bandit Ok non so quanti siano dentro Ma molti stanno a fare le passeggiate Quindi occhio Stanno tutti per rompi qua Possiamo provare ad entrare dalla cantina Vai vi seguo Ovs vai prima tu Ovs Che c'hai il martello e sfacci tutto Il bana assomiglia una mia amica che veniva con me a scuola Ma adesso cosa c'entra? Eh Quello scale è stato lì però Raga uno drona Drona io drona io Aspettate che drona io Cavera 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 Flasho flasho cavera Ma ha preso ma ha preso Si cavera Mamma mia ma stessi massissimi Avete fatto cavera si? Ok Mi sono sacrificato quella è la patria Scusa è pronta Aspetta basso Ma che ho la trappola sotto basso Passano i proiettili dall'immenso Non sappiamo dov'è Nel piede gliel'ha messo Ne è uno di fronte basso Non so se sulle scale occhio morto Come ha fatto? Eh c4 Ma riesco a capire se è sotto sopra Meno 11 Ce l'è a destra 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 C4 Cos'è questo? Bravo Flammy Bravo Infonto la rovescia di gaming è la cosa più bella del mondo Ottimo Bravissimo Flammy Io vorrei capire quello sparo da dietro da dove è arrivato no no mi sa che era lui, non vorrei dire una cazzata attraverso il muro anche anche i fantasmi risparono in sto gioco fuse potrebbe fare male c'è la polizia ma non è la polizia andiamo avanti amma, amma, come primo operatore per iniziare mi prendo a chiuso oppure dock a heavy che è ben utile, prenditi ma non è bassonico questo, e allora, e perchè ti ha o toucher, toucher è quello più utile al mondo oppure toucher il mio toucher non lo toccate il mio toucher non lo toccate ma non l'ha non l'hanno ancora corretto comunque ragione io, arrivi dai 13, 15 in su ti mettono lì ragazzi occhio dove andate perchè hanno valchiria ok mi attira più quindi gaming mi sono dimenticato ma giuro che domani te lo faccio grazie comunque scendiamo allora direi metto il lion prima che si stanno peggio potrebbe essere si si potrebbe essere un lion provo a spaccare la la l'individuo vai attivalo 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 un attimo stai reloading aspetta due secondi vado trovo in partenza ho distrutto tutto tranne l'or scusa ma io mi fido troppo dei compagni ho fatto male i miei conti su questo io mi fido troppo dei compagni ho visto se è a destra non ho guardato a destra è arrivato da destra la ela con lo spray control proviamoci però dobbiamo andare di trappola ragazzi se no qua ci pushano allora prendi tu? ok aspetta no prendo Frost non ti preoccupare andiamo solo trappole ma siamo tranquilli allora va quindi voi siete in due ma vi dividete il computer il computer è suo solo in questo periodo io sono a casa perché c'è crisi quindi condividiamo un po' quando lui non streama streamo io mettiamola così mi senti che cosa volevo dire allora trappole a go go ma quindi che sto dicendo ma quando ti classifichi no? c'è un tot un tot un tot di spazio di rank con cui potete giocare cioè tipo tu sei diamante puoi giocare con un bronzo non lo so no 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 quanta differenza ci deve essere Massimo? non lo so aspetta qua aspetta dovete controllare perché non ne sono tutti non penso ci sia un limite comunque cioè una volta su playstation 4 o non c'era sto limite dei rank? ma mi sembra che adesso adesso è il limite dei rank si toglie soltanto se la squadra dovrebbe premere ah abbiamo profumato vai vai ho sentito uno scelta da dietro ragazzi ok scelta ok scelta c'è glass di fondo quanta mi manca? già una per loro la squadra d'attacco ha trovato una per loro selma 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 granata in volo la sonica è crashata bella per basso raga arrivo da dietro l'altro blossa attento alla finestra abbiamo una zofia la sposizione qua la finestra porca pittane vai sono dietro la barricata sono dietro la barricata ok è un alleato a terra ok posto grazie questa chi era? cali? cali bella sto coperando la wind tanto prima o poi devo entrare devo cambiare caricatore si si no camperiamo raga camperiamo così tenete le posizioni tengo questa finestra eh ma da dietro no abbiamo messo ok es è morto da là da là c'è dietro di te bro eh ho usato il push total di ieri ho scrivito io direi non piccate giocatela sulla sul loro push siete loro ragazzi si si ok era Amaro l'ultima si è stato dietro penso o no eccola buono buonanotte bassonico buonanotte bassonico bella per il bassonico ah rica dopo ho plommato la caratterizzazione è nuova sul rimbo quindi ci push a lei praticamente ok è flame free lei ok ma per le non classificate riusciamo o proprio parte da zero parte da zero proprio pazzo ci divertiamo in partite veloci allora lanciamo i laser in faccia alla gente la volta buona che inizia a giocare è la contro qualcuno visto che non so fare un cazzo comunque bassonico poi mi devi spiegare come fai ad andare a letta alle nove e mezza però sono soprattutto come fa a crashare soprattutto è uscito lui dai ragazzi questa partita la voglio vincere in realtà sono veloce allora io adesso ho preso ma il mio cervello cosa mi ha detto quando ho preso grazie che mi ha colpito ma no ma no mi sono messo nell'armario ragazzi sento gente che si arrampica e non è spiderman allora o sì e di là ecco tua madre abbiamo un dock sparano dalla finestra sono sulle mie tracce ragazzi stanno dronando fuori dalla finestra qua che cazzo ha fatto quello che c'è? no ci stavo quasi credendo non c'è una calda maledetta sarà ancora in finestra ah sono entrati tutti insieme ma perché? mi ha dato se devi mettere sul computer non puoi metterti sul letto non è un formale gatto annaia alzati 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 che fai? lazaro alzati e cammi dai siamo fra due vieni non ti appendere si sta mantenendo con gli uno e guarda come sono feste andiamo di nuovo trofei no cambiamo 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 andiamo cucina cucina vai stai qua che conto eeeeh vado di valchirie almeno capiamo un attimo dove cazzo arrivano prendo smock no io canterò male se muoio perché dove stai sciocato in faccia eh this is fun che poi da dove cazzo arrivano oh osea ha deciso di dormire è in fase rem ah no sono svegliato ok ho due droni sono out oh sono spicy team madonna mia eh scusa mi ha fatto incazzare quel drone mamma mia raga muri 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 no dai dai oh oh compagnia io ho parato tieni tieni stai fermo no flammy usa sta tattica stai fermo ignora proprio il fight siamo noi tre quando mancano 59 secondi inizia a partire fai finta che non ci sei li acchiappi tutti da dietro noi tre noi tre ci stiamo ci chiudiamo in bomba tu fai finta che non esisti aux rimani con noi eh o si mi interrogo ah va bene ma come scappano tutti finocchi ok ragazzi se riuscite a chiudere tutte le porte da dove passate ci prendiamo un minimo di vantaggio perché almeno per sparare devono spaccare le porte ok li sento tutti sopra e questa cosa mi fa paura appunto si hanno spaccato no mi ha scioppato flammy te l'ho detto te l'ho detto di aspettare controlla le telecamere controlla le telecamere ok abbiamo un jackal sulla torta della cantina c'è il b-site ne sono in tre c'è anche il jackal che sta andando a questo torno a volerci il jackal l'aveva trovato le mie tracce kali sta piccando sul b-site sempre da cantina il jackal sta arrivando in corridoio vicino a party quindi situazione ce l'hai ce l'hai l'hai visto a terra ok sta pushando kali scappa scappa fanculo fanculo coglione mamma mia che sofferenza sta partita non è finita non è finita siamo solo all'inizio in questo momento in teoria in teoria praticamente si ma e se com'è passo felpato mi lancio dalla botola chiudi spalle due colpi alt-life ma tu spara sempre più del dovuto tanto non lacnici mai tanto c'hai 150.000 colpi poi seppure la dovesse finire comunque te ne fai ragazzi non so che vi diamo ehi oh fuck raga ma avete finito eeeh buonanotte giusto? sono supplementori? si 3 a 3 il primo che vince vince no si arriva ai 5 ah ok come la classificata si l'unica differenza è che non prendi il rank non prendiamo provate mira c'è mira c'è mira fior d'aliso colpi fior d'aliso fior d'aliso diamo il kebabano di Khaid aspetta aspetta Khaid non è kebab ancora c'è no è marocchino non lo so uno di quei paesi che si fanno escludi no mi dissocio no mi dissocio totalmente mi dissocio c'era un tizio che si chiamava mohammed ecco evitiamola stavamo in in comunque mohammed mohammed protect the bomba anzi no protect the diffuser or we'll blow up like your counter e lui tipo muore dai raga faccio suonare vai veloce veloce minchia ne avevamo uno qua io e si madonna mia c'è un rinculo pessimo l'arco ma che cazzo non avrei eh mira dal vino raga faccio suonare c'è mira dal vino c'è mira dal vino eh lo so mi sta passando prima io cercavo che si fa mira e morto no che coglione pensavo ad avere il mitra sono un coglione porca io ho sparato un colpo guarda basta no lo guardate basta ci sta ci sta sono le trolle che si va a mettere porca di quella trolla ecco io forse neanche una quindi no ne fate due ragazzi 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 io non andrei di nuovo in sala avviatoria che ci hanno tipo sculacciato prima andiamo in sala trofei ma io andrei di lisi io andrei io andrei si io prendo di nuovo che è andata bene prima no raga raga sono le trofei sono le trofei che cosa è con te no rng ti prego ti prego rng ok 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 dai dai buona buona scusami non era meglio se andavamo al primo piano se devi fare questo da cale ok un drone fatto raga fate i muri fate i muri fate i muri aspetta un attimo questo muro qua dove esce quale no mi sa che che lascia anche o si è crashato anche o si o si o si no raga siamo in tre eppure è suonato no no qualcuno è stato bannato e non è un minispa eh raga non posso fare il muro di 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 a perché c'è lui davanti è vivo si ah vabbè allora lascia lo stavo ah no si è ripreso ma questi ma questi Cazzo pusha no, sapevano esattamente dove cazzo ero Vabbè impressionante E' la bomba ragazzi, la bomba Vado 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 Ma sono tutti out Si ho lasciato Ace con un'attacca Intera però è una attacca sola Quindi lì pensi che entra finita Corri la finestra Un'attacca 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 Devo ricaricare Ehi vai Ehi vai Ehi vai Ehi vai E se dovrebbe avere una sola Sì ce l'ho a forciare Che culo Oh abbiamo vinto Eh sì perché vince la difesa Se si uccidono insieme Che culo Qualche satana Qualche satana per rispettare la live Giusto Allora per convenienza Non prendo a tocca a Ebi Non sa mai Quello è il problema Faccio schifo in attacco Hai spostato la tua camera Hai tirato un calcio lì Ah io ho pensato tu Eh vado di bana io Così apro 4 a 4 Mamma mia che partita Ma c'è Bassonico Chi c'è? Problema che adesso loro sono in difesa Porca di quella troia Ma noi siamo in quattro Quella è la cosa Eh sì Bastonico ci ha abbandonato E' il bel mezzo della partita Bravo Bravo Ma Ma Ah Dopo gioca la ragazza Chi è? Di Hawk o di Flamin Non ho ancora capito Ok di Hawk Quindi dopo vado a fumare E tu giochi insieme alla ragazza Cioè insieme a loro E' la ragazza che non ha mai giocato Ah quindi è come me Quindi siete alla pari Ok Perfetto Siete alla pari Ottimo Aspetta io l'ho scaricato ieri però Ma no Allora lui gioca tanto a Fortnite E' venuto su Rainbow Non sa neanche come si spara Ah Che cazzo Gioca a Fortnite? Eh lui sì Lui è Ma si scemo Vai Pusciamo duro Pusciamo duro Vai vai Cazzo duro Cazzo duro Vai Tanto ormai è finita Segui o sì Tanto lui muore prima o poi E io pure Andate voi avanti Lei io pure Io ho un BMR Chi si offreva lontanio per morire Io Pulse morto Pulse morto Oh 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 C'era una destra Aspetta Aspetta che chi è Ragazzi Ragazzi C'era la telecamera dietro La telecamera Aspettate che apro Aspettate che apro Cazzo è qua In angolo Bella fiamme Era nel posto Pi' improrobabile Del mondo Perfetto Un posto dove Già avevo checkato Tra l'altro Trash lo stavo guardando da una vita Ragazzi L'ultimo L'ultimo in up Plantate 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 No è sempre lì Solo applausi Solo applausi ragazzi 17 kg Aspettate GG Vittoria Io Ossi di seguire Scrivi Ossi segui Ossi segui Ma Ossi non è È americano Inglese Che cazzo Non so Tedesco Giamaicano Ma che cazzo Lo conosco Si è uno Che abbiamo incontrato Adesso Ossi Spike Abbandonato 31,50 Allora Chi è il capo Aspetta Rinvitate Lascio squadra Chi è il boss Chi è il boss Mi sa nessuno Sono al 37 Entro stasera Dovamo fare il 50 Si Io voglio Sono avanti tutta la notte Forse Coca Coca Cola Coca Cola Oh 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 C'ho un pacco Ragazzi Allora Bloss Ah Ho preso Eh collegalo Il Prime Che ti prendi la schiena E roba Che carina Sta roba Cosa Eh Collega Il Prime Ma ce l'ho già collegato Il Prime Eh non hai preso La schiena Ancora E guarda che basta Vai qua Claudio Alt F2 Qua c'è tutta la roba Ricompense Ma non qua Io ho il ciondolo Della trota Chiudi Chiudi Questo Sposta Quello Non so pratico Con sta cosa Vai ragazzi vado a fumare Mi fratteremo intanto si fa un paio di round No poi chissà che macelli Non mi ricordo manco la password No poi Buona raga arrivo subito No dai Trova una libera dai Così facciamo Un peso molto Ci sono Vedato il pro player Bella Per diceria solo Come fai giocare Questa Ora Ricardiamo Non mi cambia il senso Non mi cambia il senso Non mi cambia il senso Ricardiamo Non vedo l'ora Non vedo l'ora Che hai detto fai Ricambia il senso Eh no che non cambio il senso Che poi rompi Tu 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 Ma io prendo il Pizzaione va Non c'è ancora pulso L'hanno rimesso il 4x Oh si Eh io non so chi prendere C'è lo shotgun con due Che cazzo te ne fai Scusa Ma vuoi vedere quanto Sciocca Ella Si Decisamente si Perché era Però ci sta Ci sono due pompa Che scioccano in questo giro Il boss Una volta Una volta era Una volta era pullo Che c'era la ki Ma è gogo Ma adesso Non è affatto 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 E adesso Non è affatto Non è affatto Non è affatto Fa vede Fa vede Mostrami il suddetto cosa Ah uno striker Da Modern Warfare 3 Che abilità ho io Raga No Lei è Eh è la La Si Raggi Ma dov'è attivarla Come l'attivo No non si attivo Ah Ok Madonna che senza Che tiene Senti ma Quindi mo' il boss Non shotta più Eeeh Eeeh Forse Che ha shotta Ah Perché io c'ho l'M50 Ma questo ha shottato Tempo C'è il mio occhio Il mare che ti copre C'è il mio occhio C'è il mio scato E il mio occhio La porta Dai fammi voltare Dai Ma già 4v2 Ho sciso da Kakashi Kakashi L'ha fatto in mille falchi Ma comunque c'è una porta verde enorme Di fronte di nuovo Stai a Kakashi sta là Vabbè ma voi già avete ammazzato gente Ammazzato gente in due Raga Rai bisogni ma tu come ti trovi Caveira Cioè spiegati Ma che ammazzo Mi è uscito là io Sì Aveva un bel difensore Una bella crosta Orebbe adesso Esatto esatto Cosa Ho detto che ho shottato Sto coso Prò Blasta le ore Ma non ha Sto Sto Stanno a sparare da terra Già No bravo Non sento Sto rollo Io me ne vado Io mi Mi sono uscito da questa parte Guarda qua Ma che cos'è Ma che cos'è No bravo Ma ha la rosa Ha la rosa No 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 è la rosa Ha la palloppola Aveva la rosa Ah Ok Allora Allora ha senso Ti può avere un DMR in difesa Cioè la stessa cosa Sai che ti dico Cosa Lo riprendi Il cavallo vincente Non si cambia Scusa No no Il cavallo che vince Non si cambia Eh Anche se era squadra che vince Però fa niente Vabbè Io li metto sempre Il cavallo Il cavallo era per un'altra cosa Era il cavallo Il cavallo Il cavallo No bravo Squadra che vince Non si cambia Non mi ricordo che era il cavallo Cos'è quel ping numerato Che abbiamo nella classifica Quale ping? Ah è per farci capire Che se tipo vedi Uno spottino giallo Con il 3 dentro E fiamme che ha spottato Ah ok Invece quello con il 4 Sono io Ok ok Ma fra come si vede che sia un level over Lei lo capisci quindi? Fra Eh Io questo faccio nella mia vita Vedi I numeri dentro le cose No Stava coltellando fiamme Upsi daisy Upsi daisy Niente Upsi daisy Upsi daisy Scusate Grazie Grazie Se lo vedisco di cartongesso Slash Lei no Sì Ma se ti sembra di Foto Guarda Sì E' bellissimo Credito Ghi Senti Il gioco Ho dovuto far mostrare la campo Ehm J Un po' di tralucchi per il C'è un po' di Ci stiamo per la macchina dei tasti, ma dove te li ti metti i gadget dell'operatore? i gadget... io ho i... i vanillia ah? i vanillia quindi ce l'hai sulla rotellina esatto chi è esploso? perchè sei qui Rebbi? c'è qui quel posto peggiore dove state com'è? ma io non lo so soprattutto da caveira non lo so qua dove hai uno? ho fatto uno uno è arrivato da sotto forse aveva pure la bomba si c'era il C4 qua tipo ah ok ok c'è nel sinistro la... la cazzo ah oddio stavo pure esplode vai vai fammi vedere questo bomba vai oh hanno flashato ma da dove è stata? da sinistra alla destra? penso da sinistra, una flash esploda a sinistra da sinistra sotto le scale sinistra nella porta a sinistra sinistra nella porta a sinistra ma non l'ho colpito neanche una volta ma non l'ho colpito neanche una volta la mo l'hai visto? no non l'ho visto spara 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 vabbè stai pure stai qui uno qua sopra l'aga non so come pingare sta entrando dalla... dalla finestra cazzo non so è qua sotto è qua sotto è qua sotto scala è scala è scala ok ok ci sono si si ho sparato io bravo è shock ignorante una kill le tengo e l'ho fatta per vendicare te non capisco sento rumore qua io sento l'acqua che cade in questo momento non ha chance io sento rumore qua bravo vieni le scale vieni le mie vai vai non ti faccia ci sono io vai bravo è non pure non pure aggrado aggrado è in due tanto tempo eh si vabbè certo stai stai di messo di messo di me non lo busciare lascia stare fermo fermo se no ti sente fermo che ti sente tanto avvento no? ma allora mi dici un attimo quanto ho fatto schifo in questa... ho visto ho visto ho visto tutte quante bravo è imparato dal migliore è certo no in realtà io ho mirato ma l'ho preso dai che senso di merda che tieni non capisco come fai a prendere la gente dove? aimlab si ci vuole ci vuole l'ho usato due giorni l'ho usato due giorni e mi ha stufato non mi fa impazzire io direi prendo il mio coccero col pennacchio bravo me lo lasci per cortesia stai prendo chi prendo? si così gioco un operatore indica Sofia 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 va bene va bene anche lui ma voglio l'arma forte tanto ma la sua è una delle più forti ma non le uso tanto le si fra l'L8 è una bestia non lo so su Fortnite quella quando c'era la peggiore tipo uno la vedeva non la prendeva cioè preferiva la pistolina sai che ha peggio l'arma ma chi gioca forte? ma non hai messo il colore qua andiamo a fare il colore ahè ci vengono gioco ITH GENY ma per Among Us hai declinato già o declino io per te? no bravo non ci vuole gioco davvero davvero tu? ma se non chi vuole giocare lui non ti giocao mai qui perfetto mamma mia che sei tu ma che cosa? io e general觉得 siamo cilento come si non velo ah davvero come si spalasse No Questo è fermo No, mi dissocio in pieno I muri che puoi distruggere sono fatti così Fai niente, deve cancellare il VOD Perché? Perché? Mi dissocio in pieno Tu non hai sentito cosa ha detto prima Ma sono lento Ma teoricamente se hai la durezza non avrai mai la parte Ma forse magari proprio perché ce l'hai la prende Sì vabbè però non ti dai il diritto di Vabbè no sicuramente Oh ma un tizio si è fatto detonare No, ha detonato un amico Qualcuno qui ha detonato qualcun altro Noi che puoi improntare Sotto L'osso c'era la telecamera Eh no Scusa adesso ho secco La mini cerca di guardare no 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 eh No c'ho ragione Le vedo prendere tutte mio fratello Io non so mai dove sono Eh vabbè è questione di abitivi Poi si imparano diciamo Che cosa è questa allarme di prossimità è una cosa nuova Ragazzi sono sul B-Site B-Site clear? Cazzo Ah ma avevo io il C4 raga scusate Eh stavo scendendo dalle scale Da dove ti ha ucciso? È poco più avanti di me Ok 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 lo vedo lo vedo Cioè ha sparato Sì bravo bravo Era proprio lì Era a destra Cioè lì dentro è uscito dalla destra La carica è brutta Lo buscio Ma? C'è Ux lì Oh no 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 Fai 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 Non c'è non fare wallbang È stata all'altro lato Nell'altra stanza Là? È la stanza qua vedi Dai vai ce l'hai ce l'hai è tua Vai vai ce l'hai è tua L'hai lasciato È uno è uno raga Andate insieme Sì sì Blitz vieni con me in sight Se sei dei nostri No non è Metti lì a modi porta Angolo Qual è sul b-site che c'è? Anche la mia blitz Andate a cappè No da dietro Adesso facciamo vedere Giulia Sciolta sciolta Questa può andare a scendere perché Eh sì Che pesci fuori Eh sì Eh sì Grazie Ho messo to me Ed è una cosa Grava Ho mirato proprio sotto Ok questa metina è bloccata Ma lo scudo se Lo flasha Cosa fa? Già vinto 3-0 Quasi ero un troppo forte Ragazzi, io potrei anche andare a questo punto Scusa amore Ma che gioco a fare a questi giochetti? Sono troppo forte Mamma mia ragazzi 3-0 senza di me vuol dire che sono scarso io Allora Io vediamo col 30% parte opposta Sì, 36% parte opposta Allora ragazzi, io non vi voglio raccontare Stronzoate mai una volta col 10% sono riuscito a prenderlo Ma sapete per un pelo? Cioè proprio ho preso l'inizio del cerchietto Io ne ho preso una volta un paio col 2% Non esiste il 2%, esiste il 3 al massimo Il 2 è tipo il minimo Quando prendi il pack mi pare che respona col 2% Io l'ho preso 3 volte di fila, non voglio dirvi cazzate Dovrei avere anche le live No, io non vorrei fare disinformazione Però mi pare che era così Perché mi avevo un pochetto alfa viola Dai Cacciami la sole nero Cacciami la sole nero Se ti esce la sole nero ti banno Cacciami la sole nero Non voglio la sole nero Nelle situazioni di pericolo La frequenza cardiaca delle persone normali Può superare i 175 battiti al minuto Un vero soldato sa mantenere la calma Con una frequenza cardiaca tra i 70 e i 100 battiti al minuto Dopo che passo io però Quel numero scende a zero Allora io vorrei prendere una staccante no? Mmm Ok Ma chi è uscito? No nessuno Ho sentito qualcuno che si collegava usciva non lo so No no si collegava è arrivato Ah così stiamo in 5 perfetto Esatto esatto E' arrivato il dottore E' arrivato il dottore Dottore ho mal di schiena Allora ragazzi potrei comprare Tutti gli assalitori diciamo base Compro In modo che 5 operatori sono meglio che uno Si si assolutamente Pure perchè comunque devi considerare che Io in attacco faccio cacare Anche con l'operatore migliore Che so usare Che teoricamente sarebbe finca Però Non ne vale la pena adesso capito già Ragazzi se mi compro il pc Anche io Appena torno a lavorare Che c'ho già tutti i componenti Spendere un ciulo L'ira di dio in confronto non è niente Shoppo il season Compro gli elite Compro tutto Occhio Frega niente Allora Gemmi sono rimasti 3000 Potrei investirli per Mute Il Lord Il Lord lascialo stare Soltanto una figura nemistica Eh vabbè Però le figlie negli che sono parte del mio Figlia figlia Allora quali ti mancano? Mute Allora di quelli in base mi mancano il buon Mute Il Lord Rook E Castol Eh prendi Castol Per me Castol sicuro Mute Mute è fondamentale Mute è anche fondamentale Il Lord Sì capi perché sinceramente con tutto il bene Ma Rook Non l'ho mai usato prima Penso di usarlo adesso Rook è stato il primo operatore che mi hanno dato con la Spartan Edition Adesso ho elencato 2 con il truppo No vabbè a me è capitato di giocarlo anche in Ranked Rook Però sinceramente Non perché lo sapessi usare Ma perché Al momento non avevo idee quindi vabbè E l'invito Sì Un po' piacere Un piacere adesso Allora dove è il dottore? Ma Tachanka non ha più il video Battelo! Sì Vatti a vedere quello Quello vecchio me lo ricordo No quello nuovo non l'hai mai visto? No E' una cosa fuori da... Se guardi quel video Prendi solo Tachanka Aspetta vabbè Io prendevo solo Tachanka Già prima Quando ancora c'aveva la mitragliatrice Mi state dicendo che hanno riportato il video di Tachanka L'hanno messo su... Mi sembra sul... Sull'Instagram di Ubisoft Praticamente... C'è un Instagram di Ubisoft Addirittura E poi però qua non c'è... Non c'è la intro Eh vabbè che... Ma non c'è l'intro di nessun personaggio nuovo Figurati se mettono con la Tachanka E comunque praticamente penso sia il video più epico che abbia mai visto Soprattutto per un personaggio che non conta un cazzo Vabbè no dai che non conta un cazzo no Perché comunque alla fine il Lord è diventato famosissimo Cioè... Soprattutto quando c'è stata l'Operation Outbreak che è stata fighissima Perchè? Sì lo dovrei aver giocato tutte ma non... Outbreak mi è piaciuto particolarmente per le missioni Outbreak che c'erano da fare Io avevo Tachanka come personaggio Ah tu dici quello... Le cose in Coop? Esatto Eh non l'ho giocato su Playstation perchè tipo laggava... Andava tipo a 10 fps Eh che almeno me lo gioco su Stadia Vaffanculo Non so se si dovrà pagare ma credo proprio di... Vabbè stiamo parlando di Ubisoft eh Eh che cazzo... Ubisoft non ti regala mai un Kates E' un po' come... Come... Non lo so... I giochi della EA senza... Senza sbloccare l'HD per 59 euro Esatto esatto Senza micro transazione Sblocca la grafica HD L'impotica cifra è di 59,99 Ragazzi io vado di pulso dato che l'ho appena sbloccato Ma io direi... Vabbè raga io con rispetto per voi Ma io prendo Tachanka Eh allora non è proprio rispetto Vabbè allora comunque se dobbiamo rompare Proprio perchè ho rispetto Prendo Tachanka Maestro mi presti il cappello perchè è un problemino in testa Alla fine l'hanno revocato Tachanka da prima Si si adesso è... Penso che la sua abilità non serve a un cazzo il lancia fiamme però... Non fa danno Non fa danno Cioè se prima era utile per sponkillare il test server Poi vanno... Si Beh... Non lo so Non lo ho capito tutti come non lo ho capito Si vabbè ragazzi Tachanka fa cagare l'abbiamo capito Tachanka non si usa di certo per l'abilità No però il suo fucile fa veramente male Esatto Però... L'hanno revocato pure sta mappa Si tutte l'hanno revocato perchè devono fare le ESL Un drone fatto Due droni fatti Qualcuno è entrato Ehi 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 ciao ragazzi Ciao Cosa mi dai in cambio? Un po' di? Ehm... Per quanto vorrei accettare non posso Sono... Sono il pelato di Brazzer Io non... Non posso cambiare Ehm... Non... Non in questo momento almeno Oh! Attenzione! Spaccata a finestra questo momento è amato Ehm... Oh! Ok voglio... Hanno tirato una granata dentro Quindi penso abbiano soppato Attenzione ai piedi Ehm... Mi sta... Mi sta deconando anche il culo raga Sono chiuso Da dove ti hanno uscito? Da dove ti hanno sparato? Grazie Grazie Ottima indicazione All'altra Dai ma quello stato con lo stronzo appeso nel culo nel cielo Da qua Guarda la mia visuale da qua Esce che sta appena... Esce che sta appena... Dai No sono morto Comunque mi ha ucciso pure a mezzo Stavo a dronare ma... Ma da dove? Da? Si da fuori però Porta Due colpi di bosco Ehm... Usa il sensore Vedi un attimo se si fa dietro Ehm... Non è che si roba molto Clutch or kick Lascia 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 Clutch or kick Ma? Guarda ho fatto un fail della madonna C'è nel mezzo della partita Così No? Chi ha liftato? No no non dei nostri Tipo uno di loro ma poi l'hanno rimpiazzato Ragazzi voglio fare una pazzia Vado di mp7 proprio tattico Vado di mp5k E sto nella pace di un cristo Adesso mi sentirete correre a destra a manca E va bene così però Si si va benissimo Mi tengo l'olografico Sai che ti dico? Mi tengo l'olografico Pocco Adesso mettiamo Eh ma col tuo i 4x Adesso lo ho I 2,5 Sì perché Sono ignorante in matematica Allora per semplificare 4x 2x Quando dovevano programmare Hanno sbagliato Sbagliato Non è distrutto Non è distrutto Non è distrutto Ragazzi muri 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 Non è distrutto E' perché tu devi arrivare dopo copritemi mentre elettrifico un po' tutto raga che bordello donald corro io ma no regalo secondo piano ok ok secondo piano di qua dove si va dietro uno in non living room madonna che spavento raga uno di vita volevo fare one tap non ce l'ho fatto oh cibo cos'è ringo ringo no ma son caldi mezzo in curo mi dissocio prendiamo la cannabino eh cosa? la cannabino si tanto è legale finchè non ti beccano no volevo blitz che è ash nulla è sbagliato se ti rende felice giusto nulla è sbagliato se ti rende felice ecco perché questi immagini è fatto allora ma è giusto così c'è caid caid mi odia mi spara guarda che bella l'erba è fatta proprio da dio questa erba ragazzi sponsorizziamo ringo che ci paga per ogni biscotto mangiato 50 euro wow fra passami un pacchetto faccio venire il polesterone no con il mio metabolismo non hai problemi non ti preoccupare e tu consiglierebbe ogni pacchettino di libio su 300 euro che ne fai della cocaina? cosa? che ne fai della cocaina? ma nella cocaina? cosa? cocaina nella cocaina tano sempre mezzogiorno allora ragazzi scusatemi come ha fatto Alibi a mettere il cismo? ah ok è vero quello si lancia ragazzi no appena esce sei subito rilevato appena esce adesso ma un secondo e mezzo ah wow assurdo vai vai ti copro io vai entra non ti preoccupare no no io mi preoccupo porca puttana se mi preoccupo porca puttana com'è che tu sei entrato e vabbè eh vabbè la fortuna è più inizia Geronimo si rifrava subito Geronimo eh ma non metto la telecamera la telecamera il palo bianco che trovi a sinistra a sinistra quello si eh devi sparare la cosa che sporgia ecco perfetto è rimasto con una e un po' con una e un po' perfetto ma sai cosa ti dico metti una clamor di fronte come non detto nostri tra poco di nuovo tra poco no 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 lascia stare raga 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 help help entra dentro spacca una finestra entra non questa help help ecco vai vai esatto la mia salvatrice attenta 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 devi guardare devi guardare a destra quella è finta quella è finta beh buono dai lo vedi lo vedi dirà al tavolo mira 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 non c'è non c'è cosa cazzo è successo eccola finisco di vedere il film dov'è che vai ciao friddy fox ma dov'è che va mio fratello a vedere il film che film c'era ah maiz runner maiz runner ma ragazzi maiz runner avevo capito un'altra cosa parcellino parcellino mi vado di blitz proprio a cazzo duro mi dissocio mi piace mi piace rushing like a dark cock no mi dissocio che poi è perché se qualcuno scrive queste parole su google sicuramente trova tutto tutto il magico tutto il magico e ancora devo farla la partnership con loro ma io sto cercando di aiutarti però tu vai troppo nel panico devi stare civile ma chi è che entra e esce ogni 3x2 posso dare posso dare un consiglio alla tua ragazza prima di giocare a sto gioco fumati una canna fidati che vedi tutto in modo più rilassato che qui la fretta è l'ultima delle cose da fare a meno che non sei ascio perché se sei ascio devi andare se sei ascio devi andare altro che non non si può dire comunque dai ragazzi seguitemi seguitemi push di scudo push che bella buccia che ha questo operatore viste ok l'ho vinto l'ho vinto l'ho vinto l'ho vinto porco dio mi dissocio tra un po' la di frost tra un po' arriverà a uccidermi no no frost sta con me sta con me ah carca puttana non ci sta il flim oh ti amo view vado io vado io aspetta vado io perfetto non vado più qua uno qua uno qua uno no raga non perdiamo in libera vi prego pushate la bomba pushate la bomba attento ce n'hai una a sinistra reb dovresti per no chi è a sinistra tu ah no boh perfetto non dico più niente dopo la porta fa un po' sinistra un po' destra no danno l'altra porta a destra a destra esatto ma raga sparare dal muro fare un buco nel muro no non conviene non conviene dai giro sali oh cazzo è tornato gaming salve signor gaming gaming senza di te sto giocando male doc ti hanno un po' infilato la siringa attento che ci sta fiorando si accamperà qua davanti ma come cazzo che non vanno giù con starma scusate non lo so ma hai cambiato i proiettili con quelli a salve eh non sono sceme ok l'ultimo oh no non è l'ultimo se passi lì si è morto corri a cazzo di cane no pensavo era sotto invece era sopra vabbè dai ci sta ci sta una sconfitta ogni tanto ci sta ma si era di riscaldamento questo è la gamba è la gamba di Aldo Giovanni e Giacomo l'hanno ritrovata vabbè ma il mio falegname con 10 litri è la fametta dai dai che questa mo la vinciamo dai adesso gioco serio non mi piace perdere manco un partito veloce datemi due secondi torno subito anche a me vado a prendere un bambino la cantina che sta giocando è cinese si non è vero dici la verità ok è coreano ah minchia i coreani sono i più forti le competitive sono nate in Corea è inutile che ti alleni puoi allenarti tutta la vita arriverà sempre un cinese più forte di te così narra la leggenda infatti sempre desiderato se un giorno dovessi avere figli non lo avrò ma lo adotto un cinese così mi mantiene lui lo faccio studiare università va alla nasa e via basta ok ok oh yacht addirittura basta gioco serio questa partita e la vini con me e gaming ti sei riaddormentato come mai che è successo è stato un po' stampare vi ringrazio per avermi aspettato ah già ma io mi sono scherzato e tu hai detto due secondi e che cazzo abita in una villa a quattro piani ah perfetto sono dalla parte o porta la mappa più bella per farmi spiegare anche la guarda una po' positiva no è solo porte sta è tipo fuori dalle mappe che giocavo io in rand penso da quando iniziato a giocare ma che è sto bordello del motore spegnete sto motore per favore ah abbiamo chiudono le corazze ma c'è ancora i strassi lo spunto si 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 ricarica due droni fatti oh no tizio della foto non mi interessa grazie non le faccio che perderebbe magari hai vinto un milione di euro che ne sai no nella voda fanno la voda ma che poi i vigil non dovrebbero essere i muri no solo se sei vicino al mute non suona esatto come giusto che sia esatto una volta anche con un'ora era in me e chi si raga uno cittadino ma tu dove sei? perché è la requita? è tocca evi è tocca evi arrivano da sotto ho scoppiato un uno storm è scoppiato Donald non ci credo dai non ci credo dai no copri di là copri di là continui ad andare di là io ti copro le scale io ti copro le scale tirano granata arrivano fallo squillare fallo squillare ignoralo non ci credo di nuovo replicator c'è ma che cosa è sta cosa? è il colore di euro vedela come un p-range porca puttana ho fatto il giallo ho saltato da sopra alla sera ma? se te l'hai trasportato? un pochino un pochino no no sto sempre ti lascio sempre ti lascio campera 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 ti lascio non potrò mai 4 ma che cosa sta facendo? che cos'è? giro giro tondo giro giro tondo raga andiamo in sala map per fuori ok lasciatemi smoke hai un tizio? hai un tizio? perchè c'è tipo un tizio vegetarian no un tardo e due e aveva la foto di un cane con il basco e la mattina dell'urse di ah arcadia ah 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 grazie flammi non c'è problema no ma è tipo una è un'impresa di ristrutturazione questa si anche per le mie gambe a quanto pare mi piace partire handicap a me due droni fatti perchè non è un tizio 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 perché lei chi è? ah si vai vai in sala motori quando ti chiamiamo non venire ti andrà passare ma non ti affacciare non ti affacciare non ti affacciare dallo mi ero già affacciato io e sanno dove siamo Ah, ma qua c'è una finestra Ma? Raga, raga, stanno entrando, stanno entrando Stanno piazzando, mi sa Mi sa che sono più organizzati di quello che pensavo Comunque Allora io vorrei capire cosa ci fa uno yacht in mezzo al ghiaccio Ma in realtà è facile, lo yacht arriva e poi il ghiaccio si forma dopo Dici? Siamo in Russia Allora io direi, voglio fare una pazzia Allora se tu vai di blitz io ho di montagna Doppio scudo Ragazzi tutti dietro di noi Soprattutto io perché il litbox dello scudo di blitz è bellissimo Fatta bene come quelle di Ash Ma raga abbiamo un cheat tra di loro Chi che mi ha fatto fuori il drone? Ma i droni non saltano più ragazzi No guarda E' capito E' capito E' capito Eh come è possibile Vai da Ox e premi Guarda il suo drone e poi premi il tasto Del laser Eh le ha finiti Adesso ne hai uno Adesso non più Adesso non è figlio Allora qui cosa ti servono per togliere i gadget Tipo Droni Ma perché io sono stronzo e sono spawnato di qua? La risposta è Potrei aver capito Ragazzi sto facendo una corsa con montagne Che il ghiaccio si sta sciogliendo Scappato è scappato è scappato Noto via noto via Mamma mia che stile di gioco Ma blitz Morto subito Io sono esploso Mi metto a cocciare un po' Rebbe Spostati Allora metti di qua dietro E lancia il drone a terra Io vado per lo strano un po' sotto Con questo drone Entra in quelle volte barricate rosse Guarda in alto Spara il drone E crea la barricata rosse Gira di me Vai un po' fin dietro Stavo fin dietro Raga Raga Occhio Raga occhio che qua c'è un muro Qua c'è da Distruggere un muro Sono un coglione Ha uno di vita ragazzi Ha uno di vita Cioè l'ho Io l'ho fatto a metà E Vai Rebbe lo vedi Vai lo vedi E' lì E' lì Dentro al col buco Alla No 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 Non farà Non farà Povero il mio corpo Vai nella porta Destra E poi ancora a destra Scendi queste scale E mira dentro a quel buco Un po' di sopra Però Amo con la Vai Piano 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 Esatto Mira dentro Passati Ah quello scuro Eh ma è nell'altra stanza ancora Da lì non ci arriverà mai Ah ok ok No pensavo stesse capterando qua Avanti attento Perfetto Prova Rai non t'appoggia la schivagnia Che va giù Ma che cazzo dici Una montata Ad hoc No raga gioco serio Mi sono rotto i coglioni Contro un Italy Ball Non si può perdere Palle italiane E' palla italiana Palla italiana Perché è ball Non è balls Quando l'ha scritto Paolo Bitta Sei tu Quando l'ha scritto Eh Dieci minuti fa Non avevo risposto Che fai Non prendi bacca Sulla tua mappa Ragazzi Sta mappa Dovrebbero uscire sopra Adesso Ma questa mappa In realtà E' tutto il cazzo di gioco Capisci No il gioco Penso sia il gioco Più bello Della Ubisoft Che abbia mai fatto In vita sua E il problema E Quando lo accendi Ti giuro E' l'unico Ma a me fanno schifo Gli assassin Quindi per me Questo è il più bello No raga Mi si è bugato il drone C'è il Watch Dogs Che è un capolavoro Di lato Spostati di lato Non ho sentito C'è quel capolavoro Di Watch Dogs Dove gli specchi Non riflettano Watch Dogs È un capolavoro Raga Mi si è bugato il drone Che devi spostare La tra il me Non va Dai raga Vinciamo sta partita Guarda Guarda Magia Vai Flemme ti seguo C'è cavera E la uccidiamo Vai 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 Sfonda Sfonda questo muro Sfonda questo muro C'è il pompa Guarda La fotola La fotola La fotola La fotola Ah ok Scusa Ci sarà Timo Con la scena Dio Dai Dai Uccise E ho anche preso La cacciata La più bella Del mondo D'Alessio L'ho guardato Proprio un sacco Non farlo Mai più Ah boh Bosta No perché Là Se Era qua Valkyrie Valkyrie Non mi vuole Dove sta cavera Sfonda Valkyrie Down Raga ho due Di vita Chi mi lancia Una granatina Addosso Mia che spavento Come hai fatto Vai andiamo Andiamo Ah ma Risorgi con 20h No raga Non ce l'abbiamo Un toucher Mi dovete distruggere Quel muro lì Ce l'hai tu Un coso Per distruggere Ce l'hai tu Un coso Per distruggere Arrivo Ok 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 C'è scritto Stommato Perché loro hanno un altro Infionto rispetto a noi Intanto lo guardi in Youtube Eh? Intanto lo guardi in Youtube Eh Youtube non mi ha scritto qualcuno Mi hanno disinstallato la vita Mi hanno disinstallato la vita in che senso? Eh è cahito Mi ha scompato la vita Ah Ti hanno al F4 dato l'esistenza Ma ora ti Hai fatto il F4 pesante Hai fatto il F4 C'è ancora C'era appunto a 8 per Hai Sì Purtro a Geni Ma ha cacciato Purtro a Geni Maestro ha cacciato il Pumpa Proprio Il signor Pumpa Che si sta all'ecranio Ma gliel'ha colto la rosa Che hanno messo la La pallotta La pallotta Quanta ignoranza Raga vinciamo sto partito Vabbè Quando usci il F4 alla fine Un po' questo qua no? Questo foso Che se usci il drone Gli spari sul talo E togli un vantaggio Ai difensori Mi stai parlando? No Corri Ambientare un po' meglio Ah ok Voglio fare la torta Tanto Il glitch Il glitch è forte Però Se non sai usare il drone Diventa complicato Perché se non lo vedo Quasi mai Sì La cosa più importante Raga Io rimango dentro Io sono molto bravo A farmi shottare Sono molto bravo A farmi shottare Vabbè Sono talenti Sono talenti Arriva andalà Beh l'ho linkato Sono l'uno Oh per Dio Sopra Sopra Sto camperando Penso nella posizione Successo di Rainbow Oddio Stanno tutti Sopra Tutti Non so come ho fatto Ad ammazzare questo Ma sono tutti Sopra Faccio E' una Quella visuale Sono qui Ah Geni Tieni una bombetta Eeeh Nevermind Raga Raga Una è ferita Una è ferita Nelle scale Una è ferita Nelle scale Vai 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 Senza vita Perfetto Perfetto Mi hai rubato la kill No E' un po' E' un po' Incazzata nera Basta 34 Niente Parte opposta 36 Le tue chance Sono aumentate 18-50 Insomma Se io clicco Tipo qua Ah Non può scrivermi I messaggi Fantastico Eeeh 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 Mi ha già iniziato Tutti che giocano Le veloci Com'è sta cosa Dai raga Il mio obiettivo Per il momento E' arrivare al 40 Almeno Siamo al 38 Vero spirit Ciao Amore mio Stavi dormendo Dove andate? Dove scappate? O forse c'è un letto Sul tuo gatto Ma che cazzo Sei in prigione Una specie Ha solo finestre Verso l'interno Esatto Esatto Questa cosa Mi preoccupa un po' Hai un camice bianco No 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 Ah ok Però è sotto un te Esatto Per caso Stai a scampia Mi dissocio contro i napoletani Non c'ho niente io Niente No no Siamo finando Mi dissocio Perché è sempre Razzismo Si può chiamare razzismo Si Razzismo interno Razzismo interno Ma raga ma perché una bomba è qua? Che viola Che viola te Mi sto ignorando Mi sto ignorando Mi sto ancora più Insulsare 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 i napoletani Che è il sud Di finale Aspettate che vi devo alzare tutti quanti Mi sono disporre Di una abbastanza sociale Assurda Perché Io sono Abbastanza contrario A queste cose In generale Perché sono più Romantico Sul Sul discorso Dell'umanità unita Come umanità Però Facciamo Perché c'è un'umanità In questa vita Appunto Siamo un po' dissociati Siete tutti Siete tutti di Napoli? Si Non ti preoccupare Mio Dio Ho stampato il culo di qualcuno Ti do scusami Glossi si è fatto una signora ducca Ti hanno stampato Mi hanno disegnato Ma vedi Sembra che si è stato ucciso Tipo come successe Si Sei fatto nello stesso modo Ma delizione quel cosa La maledizione Ma che terminologia Premi il premio È perché non posso dire Porco Dio Ogni due secondi Capisci? Ma avere il cazzo in istra Quella cosa bionda Bastarda davanti Ma che cazzo Di gioco è Ferri Ah che dubbio Vabbè raga qua dormono Raga fatemi fare full team Vi prego lasciate stare Lasciamo il full team Vabbè 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 nel dubbio Uccidi un alleato E gli faccio la Vabbè che cazzo in Noo Vabbè vale come full team Che bastardo Che bastardo Pezzi di merda Pezzi di merda You don't get this Buonasera Bastardi Bastardi Ma non voglio smoke Voglio l'altro Oh dove è il mute Dove è il mute Vai Che è la Vado fuori Vabbè vado fuori Perché su questa mappa Sono bravo Cioè ero bravo Quando era bella Oregon vecchia Era bellissimo Oregon vecchia Ma gli scrivo Where are you from Where are you from Che ti vengo a prendere Bastardo Il mio primo esolo Ho fatto fuori Oregon vecchia E oh mio Dio È stato amore E prima di stavano No tu non sei male Tu si bastardo Magari Magari è una bella Ungheresa Che cazzo ne sai È una bella bionda Termina la genua Venga Il pavimento Cioè il gioco Pronto Ragazzi Io voglio il nome Del loro quarto Viva la sega Viva l'Afghanistan No Ah beh sì È un bel paese L'Afghanistan Effettivamente No come Come ragazze È un bel posto Anche il clima È molto Confortevole Confortevole Mi dissocio Dove stanno tutti Dove stanno tutti Adesso puoi chiudere con la window No sto sparando Premesso Ma chi è che chiama a mezzanotte Come cose da vedere Come cose da vedere Vado a fare tutto in una telefona Chiamate qui su internet Lancio granate Bella dark Buonasera Non c'è tipo nessuno Non c'è tipo nessuno Ma raga dove stanno Dark ti sei perso Ti sei perso una bella quadrupla Dark Arrivano dal profondo su Arrivano da là Oddio No non è full team Sono tre stavolta Eh dark Se vuoi recuperarlo Vai su youtube Torna indietro Di un round precedente E ti guardi la quadrupla Tanto sono in diretta anche lì Voglio un fucile veloce Un fucile veloce Tra quelli che ho Ash Minchia ragazzi Tutti a quest'ora vi connettete Che Bella Fanga Mi ho fatto la squadra Rainbow Con la laureginaria Minchia veramente I primi eroi di Twitch Di Twitch si Di Rainbow Manca a farla apposta Grazie Fantasso Mamma mia Anche perché Io non ho altri personaggi Mi sembra di essere tornati Mi sembra di essere tornati Tutti era C'è un touch C'è un touch Anche aggressivo Il gioco era molto più bilanciato Molto Aiuto 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 Tua mamma Suka Cosa c'è Cosa Quale senso Tu hai detto Suka Però Stavi parlando Con Ruh Non sto capendo Suka come Suka Ma Suka come Come Ho perso un attimo Il discorso Comunque raga Io push Tanto capite Questi qua dormono Cagna Ah vuol dire Ah no Ma io Ce l'avevo con sua mamma Ma che c***o Dai Vai apri 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 Merda Meno male che me ne sono andato Ma perché tu sei russo Non eri napoletano Ma che fai Ma che fai Orco Parco Fai come la Ma Non si era manco caricata Madonna Qua hanno chiuso tutto Un termine Non ce l'abbiamo Bene Allora tu attacca da un lato Doctor Lo senti Ma se Provi a fare il joke Del drone Che lo lanci Io mi ero un attimo perso Col drone E non la so stanotte Ma l'hanno reworkato Pure questa Sì Sì Tutte le mappe Classiche sono state reworkate Raga Ci ho sedi vita Io mi lancierei E vabbè ma O mi fai detonare Fatti detonare Quella carica Ammazzi Frost Nel Cazzo mi hanno fatto il drone Cazzo mi hanno fatto il drone Ma 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 Il drone che rimbalza Ce la facciamo Ce la facciamo Piano piano Ma Vai vai Sento il rumore di fuoco Sento il rumore di fuoco Sono pure da tutto Niente Vabbè Sì sì Attento alla camera Spara La carica Ah Qui stanno Destro Qui sono Qui No No Planta 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 Eh niente raga No 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 Raga Madonna 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 Se c'era quel Proiettile solo Bastava pure sparato Senza mirare a caso No raga Oh Stava 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 Caricatore Ehm Ma è arrivato un suono strano Tipo un Donazione? Non lo so Qualcuno avrà donato? E tu che l'avevi messo come donazione? Ehm Non è arrivato niente Ho sentito solo un Mentre stavo pure detonando Quindi figurati Che alert è partito? Non lo so Un alieno Ci è entrato Ma stavo facendo una partita Ho salvato tipo 4 clip Mmm Ma si andiamo di uno di Ash Ragazzi Un breach Perfetto Si loro sono notturni come noi Lo devi sapere Oh Scrivete Andrea Di entrare su Rainbow Io gli faccio il culo Ma è da play Ah no lascia stare quelli da play Pfff Guarda c'è guarda l'opera su vivo Stai stremando Non lo so ma ho bisogno Faccio il busto dei Non lo so ma ho bisogno Di una persona che mi metta dentro l'acido Perché non sono notario Si quello si Devi venire commentare insieme a me Ah perché si è fatto i capelli biondi Io ho scritto C'è del cappello nel tuo biondo Una cosa del genere Non ho capito niente Stanno in Non ho capito niente Ragazzi il trucco in questo gioco è ammazzarli prima che loro ammazzano voi Non volevo dirvelo eh però Eh raga non lo dita nessuno però Ma è bello Ma io pensavo che dovevamo rompere le barricade Ma lo stai facendo? Beh io te lo ripeterò sempre Sei un coglione Vabbè Ragazzi sono un coglione F in chat su Raga se sapreste veramente Se sapeste veramente il momento Oh è arrivato anche Tementex Inizio a spammare F fino a domani mattina C'è Tementex Bella Tementex Eh abbiamo visto Ragazzi siete entrati tutti in ritardo Ho fatto una quadrupla della madonna Prima abbiamo toccato i 12-13 tipo Sono sotto raga Si sono sotto E i premi di Fortnite per adesso sono stati il top Però anche Rainbow A gratis Non è male No amo Però è poco Troppo qui Qua dentro Si amo sta la porta sta Senti io brucio la Sta uno proprio dopo la porta 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 quella verde Che è scarso Ma? Ma? Che è scarso Ma? Che è scarso Eh no Devi lanciargli qualcosa Tipo una granata Una smoke Un drone Tira un drone Tira un drone Tira un drone Reb Entra con un drone Ma io Giulia la voglio come modellatrice No ragazzi 2 a 2 no però Scusate Madonna Sto spettando l'auto Le orecchie custodi Quanto pare Io vorrei capire Match point Che ha donato Ha fatto cose Com'è che mi vedi? Come moderatrice Altro che supporter Sto tanto a me questo gioco Mi chiede tu stai Mi chiede tu stai Mi chiede tu stai Ma solo perchè non sai giocare ancora Capi? Mammo io ti garantisco Che appena Che appena inizia Ed entrare nella Nell'ottica Nella testa Nell'ottica di rainbow Tu Allora L'ottica di rainbow è semplice Realismo nel senso No realismo Nel senso che dovresti muovere In teoria Come una Una persona Quasi normale Cioè Cioè Nel senso Io ho soft air Non dico che mi muovo così A tirare granate a destra Manca Però Quasi Quasi si Vado contro gli alberi Come oryx Sì Sicuro che è partito l'alert Sì Sicuro che è partito l'alert Sì Sono sicurissimo Non c'è un minimo di vita Tu c'è Sì Dopo andiamo a controllare quale è Sì 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 Gloss Una volta giocando sottile Mi sono legato una padella in petto e ha funzionato Perché voglio sapere Perché voglio sapere La risposta è non far Vai entra 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 Push Push Raga abbiamo qualcuno qua e occhio Mi sa che ce l'abbiamo sopra Drono 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 Vado sopra Vado sopra Ok sopra è libero Faccio il giro largo Ok tutto libero sopra Riuscite a fare la botola C'è una trappola sotto le scale Quindi fatela come prima cosa Allora uno è dentro Due dentro E niente drone morto No E tarebbe Occhio spostati Giulia in sei giorni mi faccio la pelata azza Vedo la macchinetta vado a zero Parrucchiere Cos'è il parrucchiere? Vado con AUX raga Studiato il fai da te Madonna non hai saputo più questi capelli Sono troppi Sono caduto insieme alla pompa Che pappa Pacco regalo proprio Pacco regalo proprio Ah no togliti la spina Togliti la spina O gli lascio crescere l'ammo di Tarzan Mi faccio le treccine poi Che amico Che napo Ma perchè non lo voglio di andare a parrucchiere solo per quello Ma cosa ho visto? C'è Jack C'è Jack Dopo la bomba Si Jackal Jaeger A sinistra Doc L'hai visto Secondo me l'abbiamo vinta 13 kill c'hai Allora metti Dove stava? Dentro 13 kill non son bastato L'importante Beh Le PS0 sono state importantissime Anche le migliori del match Ah Ox che cazzo hai fatto? Ma perchè tu hai No so Perché tu hai 13 kill 2.600 punti Quattro l'hanno 4.500 Perchè hanno tutti quei punti? Perchè hanno vinto Danno i punti della vittoria Ah per quello che è Xperia più se vieni Buo ragazzi ho ancora 20 minuti Se volete farvele ancora uno No vabbè prima devo sentire Se mi risponde bella ragazzi l'amicizia ce l'avete la notifica della live vi arriva quando volete il discord ce l'ho quando vogliamo ci siamo va bene bella ragazzi gg bella allora io ne faccio ancora una da solo? si da solo volevo arrivare al 40 non ci arrivo arrivo al 39 ma Giulia studia sta studiando? Giulia è scema che cazzo c'è? ah no? tu pure sei un bidone a giocare però giochi c'è il giorno 32 ma va a scuola o no? cos'è la scuola? dillo che non lo sai e hai paura di rispondere non va a scuola non ha 15 anni non fa l'università l'università da scuola è diverso ma vabbè eh certo cosa fai? leggi? no guardo ho visto ma cosa? non lo so che merda meglio così banca bravi tutti a eliminare banca bravissima mappa di merda scusa ma voi 5 eliminate una gli altri gli altri scelgono un'altra mappa se scegliamo tutte e due le squadre questa poi fa sorteggio vedi tutti e due abbiamo scelto questa quindi adesso scegli a random è brutta a me non piace nemmeno a loro si vede che cazzo confine come ultima partita pog nice i love you faccio capire se è acceso ok guarda che bella cuore cuore peace dunque questa void bisogna eliminarla salvati le clip delle belle kill e poi elimina troppo razzismo questa live signori di twitch i miei social ragazzi mi muto un attimo l'ho già fatta allora allora eh no però se le vuoi prendere dalla diretta le cancello da qua le prendi da youtube è su youtube ancora peggio no vabbè su youtube se ti banno non me ne frega niente ma oh sono 60 follower sudati quelli non come te che li ho comprati eh ma che cazzo hai comprato me li sono sudati più di te eh 160 ragazzi venite a mettere mi piace io non ho mai chiesto mi piace o mai di iscrizione a parte indovina chi ha messo come la sessantesima iscrizione chi l'ha messa io giulia si gg per giulia f per giulia ragazzi si pusha con ash no ma ash il brufolo top che brufolo il mio brufolino minchia non mi va via è una settimana che qua si è affezionata la mia faccia ma è una casa non è un brufolo no è un fungo proprio di quelli che e poi rimangono lì a vita non li ho mai ma quando esce esce perché stiamo parlando dei miei brufolini adesso piccolini cuccioli ti devi devo vincere questa partita perché sono incazzato hanno perso troppe di fila se la vinci così come si chiama io ho un problema di vista come si chiama se la fai a vincere così snichi tua mamma valchiria che schifo ha detto che lei è la prima supporta ma che schifo è la prima che supporta il canale non è vero di che c'è Bassonico c'è Gaming Tementex Zack tutti ci sono lei è arrivata dopo e sulle prospolite ha provato a far l'elenco no è vero è fratellone che fratellone? fratellone di patti è sempre Bassonico è sempre Bassonico quanti profili ha Bassonico? ne ha fatti 50 perché un giorno l'hai bannato no avevo mandato una sfida tipo erano arrivati 25-30 spettatori e dicevo raga se escono 8 voti banno chi volete è che sono strano tutti volevano bannare Bassonico aspetta aspetta perché era l'unico la voglio vincere a cazzo duro senza futuro e niente faccio stare che tutti lo volevo battare aspetta ma tu le vedi tutte le telecamere non vedo vabbè ma le sono a memoria e sono ha non sono non non a destra è scarsissimo puoi togliermi il 90 di vita ma no 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 non funziona così era un uomo non l'ho visto avevo la mira nella testa ti spiego perché in poche parole una volta per fare nuovi posti VIP avevo bisogno di 20 persone che scrivevano diverse no essendo che eravamo tipo 25 spettatori dovevo fare sta cosa ho detto raga se riusciamo a farlo banno qualcuno che volete e tutti volevano Bassonico e lui per non farsi bannare visto che l'avevo mutato non poteva non poteva scrivere si continuava a scrivere a fare nuovi account per non farselo bannare e quindi si è ritrovato con 52 account diversi Bassonico 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 merda è iniziato grazie a lui il canale dopo andiamo a vedere un attimo i sound appena stacchiamo la live perché? è per capire cos'è stato se un'iscrizione o mentoria è il sound della donazione magari hai passato il masseo a donare 20.000 euro non lo sai no donazione non si è arrivato guardato ma magari non arrivano subito ma non era da paypal perché quella era l'allarme la sirena tipo apocalisse non era quella era tipo quella d'alieno tua mamma ma non so tu li hai messi giulia descrivi il sound che hai sentito prima l'ha sentito almeno magari è una sub l'hai sentito almeno no nemmeno sub chi è l'ultimo il sub è messo quella canzoncione di merda che mi fa cagare è meglio il mio no no la posso fare ma secondo me si era immaginato giulia magari era un suono del gioco lui l'ha scambiato per un altro no no stavolta non mi f***to la testa c'era io so che ce n'è uno sopra a ma pure non serve per entrare ma pure non serve per entrare quasi ma l'importante è aver vinto no? l'importante è sempre vincere o scopare dipende dai casi ma il punto è uno la V di pagina ah no di vincita a parte che vittoria però che no vincita ma qualcosa non serve per rompere tu lo usi sui tipi no perchè uno prenderlo in piedi per lo saltare in aria però non funziona così perchè non l'ho preso l'ho fatto perchè volevo togliere un po' più di vita se lo prendi lo fai però non lo so devo provare adesso provo con un amico ma non ho neanche capito come esplode adesso te lo faccio il video è il video più bello del mondo dopo ragazzi dopo questa partita tutti e cinque quelli che siamo guarderemo il video di Ash che sfonda i muri proprio brutto che ho ucciso che bidone borsa di Louis Vuitton o Gucci 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 vero guarda le rifiniture è Gucci però è fake no no non è fake si vede non è fake perchè dovrebbe esserci una targhetta ecco qua dovrebbe esserci scritto Gucci sai gli altri compagni che mi stanno guardando che cazzo sto facendo sono lord se lo stanno chiedendo dov'è la telecamera è lord l'hai fatta perfetto adesso qua si fa così si apre sempre sparando quando hai la possibilità io sono locale poi prendi la tua telecamera bellissima entri guardi se sopra c'è un bellissimo buco non c'è it's clear it's clear it's clear south it's clear m***a che inglese per te che si dice non si dice clear c'è proprio non si scrive clear ma da dove ma io non ci credo che ha sparato a run vabbè it's dead difendiamo dopo mi guarderò tipo 4-5 puntate di My Hero Academy anche se ho due ore di sonno ragazzi votiamo tutti insieme ho scelto io guarda quanto è cazzuto cioè tu immagina cosa devi provare avere una maschera antigas senza gas soffochi tu è zitto fatte puttanate no però ci pensi guarda ma ci pensi voglio sapere se ci pensi effettivamente come respira respira grazie al gas perché lo purifica io devo pensare alla cazzata no guarda 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 perché si stava guardando il polso quello che si stava bucando Fede vai a dormire che è meglio no Giulia no tu dovresti essere qua insieme a noi a streamare come ospite speciale it's dead con noi mille spettatori mettiamo di là ma da lì arriva gente da destra arriva gente è ripartito è ripartito è ripartito che stiamo a dire questo è perché sbagliamo soprattutto io a pushare in difesa la zeta te l'ho già scritto cosa per pingare ma infatti che tasso del cazzo eh lo so ma gli hai dato anche te i punti perché ho fatto l'assistente a scansione hai tirato 100 punti no ragazzi non andate via dobbiamo guardare l'ha saltata da stream chiudi il discord che non lo stai usando ciao 관심 buldu a perdito no non andate via Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ancora cinque secondi. La squadra d'attacco ha trovato una bomba. Ho riportato il muro. Nuovo fiume. Hanno trovato una bomba. Va difesa. Aria a spazio. Se le camera attivate. È servivo in questo settore. Aria a spazio. 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 Adesso ti faccio vedere il video di Ashe Peccato per la partita Livello 39 Eppure abbiamo giocato bene Vabbè a parte sneaky che ha fatto 0 Ordinamente giocavamo in quad Guarda Oh pacchetto Pacchetto leggendario Vabbè a visibile a occhio nudo a 800 metri Allora Un personaggio? No è un cappellino Quando ero piccola la nonna mi diceva sempre che il silenzio si addice a una donna E' un poffa Beh devo ammetterlo Non ho mai accettato il suo consiglio Mi ha dato un cazzo tre anni e poi c'è solo lei che si parla contro il muro e esplode Quanto pesi durano? Ti faccio vedere quelli più belli Dai non è che mi vada Cla il suo è bellissimo guarda Cla Grazie a tutti Ehi profissi, non c'è. Muto! Ah, il suo è dolce Quello era un cazzo di razzo Vediamo un altro, prima di andare a Nanna No, voglio vedere Elia Non c'è Elia, quelli nuovi non ci sono Sono solo i primi Tachanka non so se c'era, l'han tolto lì Tachanka Metti una femmina, metti la silenziata Non c'è Solo i primi operatori Metti... Twitch Se ti avanza qualche ora, mi piacerebbe spiegarti in dettaglio come funziona questo capolavoro di ingegneria Quattro gruppi di trasmissione indipendente Distrugge le cose Ah, quello che sparecchia Ma il suo? Non l'ho mai visto il suo Lo sai che cos'hanno in comune gli artisti e i cecchini? I dettagli Come quando un colore è fuori posto Quando un'ombra stride con l'ambiente I dettagli Quando una sagoma non è dove dovrebbe essere Ciò che cambia è la posta in gioco Io rischio di più Ho l'occhio chiuso Vai, vai Vai, ultimo, ultimo Questo lo uso Basta Ragazzi È stato un piacere Grazie a tutti Grazie a Totti A Totti E buona serata Buonanotte Giulia Buonanotte a tutti Perché Giulia? Gli altri sono stronzi Buonanotte Giulia Ciao, ciao a tutti Ti voglio bene incontrare il mio fratello Buonanotte Buonanotte Peace In